L'amministrazione di Borgo San Siro, provincia di Pavia, l'amministrazione comunale di Borgo San Siro rivolge alla carissima nonna Elsa Scagliotti i più sinceri auguri di buon compleanno per il grande traguardo raggiunto, 105 anni di vita intensa, ricca di gioie e soddisfazioni, circondata dall'affetto e dall'amicizia dei suoi cari e della grande famiglia di Lilla Mafarda, il sindaco Borgo San Siro, 28 maggio 2020, Antonio Ballottina. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.